Inghè, 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 allora, ci sei? Questa via Porcaro, il Bosco in Rosa, che si è intervistato da me, è una questione inghè. Più rosa di così, ma io voglio sapere, sì, certo, per il Santo Ibaro, per il Bosco in Rosa, per le donne, per tutto quello che può essere di aiuto per stare bene, vivere bene. Una bella passeggiata, ma non una corsa, eh, no, una passeggiata. A piccoli corsi, però, a piccoli davanti. Ma tu, voglio dire, tu pensi che le donne si effettino così? No, io penso, non mi far dire quello che penso, perché potrei offendere, non mi va di offendere. Ma comunque mi piace, mi piace assieme, lo vuoi dare? Come no, eccola qui. Grazie mille per la tua presenza, speriamo veramente di una giornata divertente. Ok, certo, sicuramente, grazie. Grazie ancora. Ciao.